Allora, sono le 11 e mezza di mattina, no, mezzogiorno e mezza, perdono, di mattina e questo è Sesto San Giovanni, provincia di Milano, come si è svegliata? I mezzi di Sargisale passeranno pure a Milano, ma qui non passano minimamente, quindi in realtà la strada deve essere pulita dalle macchine che continuano a passarci. Lo stesso vale per i marciapiedi, che vabbè sono, come si sa, le case che se ne occupano. Ieri sera questa strada era una fila unica di macchine, fila unica, fila unica di macchine e mio padre che è un vigile del fuoco e lavora a Gorgonzola, è partita alle 4 di pomeriggio da caso a Sesto San Giovanni ed è arrivata l'una di notte, quindi...